Attenzione scusa! Viva mai dire golle! È una bella show! Ciao a tutti amici di Viva mai dire golle, undicesima replica delle nostre partite scelte per non attestarsi tanto del fatto che quest'anno non ci sia rai dire europei oggi manderemo in onda diciamo come parlano i maestri della tv, della radio Olanda, Jugoslavia del 2000 Euro 2000 con tre ospiti famosissimi Helen Hiddick, la conduttrice di mai dire golle, mai dire Mike nel 97-98-99-2001 e Fabio De Luigi questo lo conosceranno tutti, attore comico, colui che fece Ormon, Ingegner Cane Fabius eccetera e per di più terza ospite Florence che per anni è stata collaboratrice del della Jalapa's Band Link in descrizione Olanda, Jugoslavia, 2000 e buon ascolto Grazie a tutti!